Oggi ragà mio marito Alesso devo mostrarvi una cosa e dobbiamo chiedervi un consiglio Allora vi ricordate il quadro con gli attrezzi di mio suocero, della buonanima di mio suocero che ha fatto fare mio marito con gli attrezzi per andare a raccogliere gli asparagi Da questo quadro, allora questa parete aveva solo tre quadri Questi sono stati tutti fatti da mio marito tranne questo qua centrale che ce lo fece una galleria con una nostra foto così che si vede astratta Ma bu, comunque detto questo, ma come non ci sta Ma che sei, ecco qua, tu che baci Marta Questa è la foto, ci stai, vabbè comunque Allora, su questa parete c'erano solo tre quadri Da questo quadro è nata l'idea di riempire la parete Adesso così diciamo che ci piace Io avevo già andato a prendere in garage un vecchio quadro che fece quando era ragazzo, significa vittime, la B, D del sistema Vittime del sistema, ok? Con lo mino Aspettate Con questo mino, insomma, questa sarebbe la vittima In senso l'uomo, noi Noi siamo vittime del sistema, la società è vittima del sistema, in effetti è così Vabbè, detto questo vogliamo un consiglio da voi Allora, io dico che quel quadro vittime del sistema Debba rimanere del colore originale Mentre mio marito dice di volerlo fare rosso O rosso o giallo Voi che dite? Rosso o giallo? Oppure resta così? Secondo me sta bene anche così Fateci sapere Grazie Grazie Grazie